Questa è una mozione che noi riteniamo importante perché di fatto consente di adeguare quelli che sono oggi gli attuali sistemi di fax alle nuove esigenze dell'amministrazione capitolina. È evidente che noi abbiamo all'interno dell'amministrazione e anche all'interno delle singole strutture una serie, anche se ancora non eccessivi, visto che la maggior parte dei sistemi attuali e di comunicazione avviene attraverso la PEC, attraverso il portale, attraverso le piattaforme messe a disposizione dell'amministrazione capitolina sul portale di Roma Capitale. Tuttavia noi riteniamo che sia importante avviare questa rimozione e dismissione delle apparecchiature fax detenute da Roma Capitale e al contempo anche dismettere tutte quelle linee telefoniche dove sono presenti per andare sicuramente da una parte a prevedere un maggiore risparmio. È ovvio che già questa norma, insomma la norma nazionale, già prevede che i fax non debbano essere utilizzati all'interno della pubblica amministrazione, però se vediamo all'interno del documento unico di programmazione vedremo che all'interno di alcune strutture queste apparecchiature sono ancora presenti. Quindi da questo punto di vista serve certamente una dismissione anche perché esistono soluzioni tecnologiche sicuramente più economiche per l'amministrazione per andare in questa direzione. Grazie.